Buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovati, questa è Sette in Punto, questa mattina ci lasciamo andare nel senso più letterale della parola, ci facciamo trasportare dalla grande sensazione che si prova quando si viaggia a bordo di due ruote, non magari pedalando, ma in questo caso parliamo di moto e parliamo di moto anche di un certo tipo, per farlo, per farlo in maniera adeguata da parte di persone che lo sanno, sanno di cosa parlano perché praticano delle discipline sportive su due ruote, abbiamo il piacere di bene due ospiti questa mattina, il primo dei quali andiamo subito a salutare e a ringraziare di essere con noi, si tratta di Lucio Cazzin che è team manager e pilota di Autocadoneghe, squadra corse, divisione moto, un po' lungo ma speriamo di esserci fatti capire, buongiorno a te Lucio, buongiorno a tutti, buongiorno Roberto, grazie di essere con noi, poi sei anche in diviso ufficiale oggi? Sì, oggi siamo in diviso ufficiale, è finita la stagione da poco, per cui è bene, si pensa da una parte già all'anno prossimo e ci si godono i risultati, un po' perché è andata bene, per cui è un anno ricco di soddisfazione. Tu eri venuti a trovarci non molto tempo fa, un annetto più o meno fa? Un annetto fa circa, sì. Forse non ci ricordiamo, perché ovviamente la memoria è un po' labile da parte di chi ti parla, ma vista l'età insomma, non ci ricordiamo se abbiamo parlato di questi che sono stati anni molto importanti per voi, che però sono anche anni che sono coincisi con un momento molto delicato della nostra vita, della vita di tutti, sia da parte di chi andava sulle due ruote, ma anche di chi non ci andava. Come sono stati questi anni in cui avete conquistato anche un po' di titoli italiani, però in discipline particolari di cui proprio ti e vi abbiamo invitato per parlarne e per approfondire la conoscenza, no, Lucio? Tu sei praticamente una persona che gestisce, ma anche una persona che va in moto, che ha un'esperienza sulle due ruote. La specialità in cui voi siete particolarmente forti, vocati, è la velocità in salita. Mi sembra quasi, come dire, una contraddizione in termini, perché uno si aspetta la velocità, vabbè, su tratti pianeggianti, ovviamente sulle discese, ma una velocità in salita, sembra quasi un andare contro le leggi della fisica, non è così evidentemente. Allora sì, la velocità in salita parte, come avevamo già detto anche nella precedente puntata, gli albori del motociclismo in Italia nascono proprio dalle competizioni su strada. Essendo i tratti collinari e montani ricchi di curve, che è quello che serve sostanzialmente per una competizione motociclistica. Sì, queste si svolgevano per la maggior parte in montagna e in collina e perciò in salita. I grandi piloti, tipo Agostini e Lucchinelli, nascono da questo tipo di competizioni. Noi, sì, diciamo, siamo un po' degli specialisti, nel senso che la pista a noi serve come allenamento, allenamento, ok, propedeutico, però le gare sono quelle in salita. Come dicevi, veniamo da due anni, questo progetto è iniziato nel 2019, nel 2020 abbiamo fatto l'associazione sportiva, la nostra squadra corse, che è coinciso con l'anno del Covid. Per cui la voglia comunque c'era e seppur con i dubbi che abbiamo avuto tutti in quel periodo siamo partiti con questo progetto che sta andando bene, nel senso abbiamo vinto un titolo italiano, tre volte vice campioni italiani, tre bronzi, per cui, che dire, dai, siamo soddisfatti. Tu sei già stato estremamente preciso, ovviamente, tanto di cappello, chapeau, come si diceva prima di andare in onda, hai specificato una cosa importante, stiamo parlando di moto su strada e non su pista, qui da caso ovviamente chi ne capisce qualcosa può già dare il primo rimbrotto al conduttore, insomma, perché stiamo parlando di moto su strada, poi vedremo anche delle immagini che tu gentilmente ci hai fornito, proprio anche per dare un'idea di cosa significa, ecco, qual è la differenza, se la domanda non è banale, cioè correre su pista e correre su strada? Allora, per come è impostato il campionato italiano di velocità in salita, intanto non si parte in gruppo, ma si parte uno alla volta, è, tra virgolette, sostanzialmente una crono scalata che potrebbe assomigliare su questo punto di vista ai rally, solamente che lo si fa con la moto, per cui il tracciato viene messo in sicurezza, la federazione fa le sue verifiche, vengono messi nelle condizioni dove ci sono i guardrail e la peculiarità resta l'assenza di via di fuga, per cui cosa succede in questi due minuti di gara? La concentrazione è tutto, l'errore è vietato, sia dal punto di vista cronometrico, perché in un gran premio di 25 giri un errore si può recuperare, in due minuti di crono scalata un errore rovina il tempo, rovina la salita, e sia poi, bisogna stare attenti a non sbagliare proprio per l'assenza di via di fuga, per cui è un motivo in più per non commettere errori, per cui... Senti, però velocissimi i tempi, cioè ristrettissimi Ristrettissimi, sì, le gare si svolgono su un tracciato che al massimo arriva in tre chilometri per cui è tutta concentrazione, niente errori, sensibilità di guida e comunque l'asfalto non è perfetto, per cui si va incontro a cambi di asfalto, in questo spazio ci sono cambi di asfalto anche ogni 500 metri, 300 metri, ci sono sconnessioni, cambia sempre dall'anno prima perché poi la strada si modifica come lo vediamo sulle strade di tutti i giorni, queste penso siano le caratteristiche tecniche principali di questo tipo di tracciati. Senti, i tracciati, i percorsi sono in Veneto, nel nord-est o voi immaginiamo che come campionati italiani, giriate per tutto il paese? Allora, nel tempo adesso si sono concentrati in centro Italia, cosa posso dire, da Bologna a Frosinone, per cui centro-nord e centro-sud, bisogna tenere conto che per i motoclub che organizzano questo tipo di competizioni è impegnativo su tutti i fronti, per cui non è da biasimare che delle gare storiche come poteva essere la Levi con il vetriolo, ma si spera sempre che vengano riproposte, trovino a lato pratico delle difficoltà, per cui c'è tutto un iter da parte anche della federazione di controllo, di verifica e negli anni ci sono dei motoclub storici e sostanzialmente, lo vediamo negli ultimi 7-8 anni, sono quasi tutte concentrate da Bologna a Frosinone. Ah, ha proprio l'area vocata, insomma. L'area collinare, molto bella, sono sempre anche... Sì, perché sono anche luoghi molto suggestivi, certo, voi non è che abbiate il tempo per guardare i paesaggi, ci pensate dopo, insomma. Non tantissimo, ci pensiamo prima e dopo. Prima e dopo. Senti, e che diffusione ha, per la tua conoscenza e per la tua esperienza diretta, proprio dalle nostre parti, cioè in Veneto, nelle nostre regioni, Friuli, perché pensiamo anche aree comunque collinari, con rilievi, insomma, che si potrebbero comunque prestare anche? Si potrebbero prestare, di fatti si spera sempre che qualcuno, anche dalle parti nostre, qualche motoclub volenteroso, si abbia, prenda in mano qualche nuova iniziativa. Piloti in realtà arrivano da tutta Italia, cioè dal Trentino, come sono Francesco Piva Francesco Martinelli, due piloti che fanno parte di Autocadonna in squadra corse, al Friuli, alla Liguria, per cui i partecipanti sì effettivamente sono da tutta Italia, i circuiti al momento sono in quell'area che abbiamo appena indicato. Senti, adesso, sì, non abbiamo, ci siamo dimenticati di mettere un bello striscione che avete portato del vostro club di Cadoneghe, cioè dietro quelle sigle, dietro i trionfi anche sportivi o il vedere le persone che conducono le moto, c'è un'attività anche organizzativa, molto capillare, molto impegnativa, crediamo. Sì, allora, come, diciamo, associazione sportiva ovviamente c'è molto da fare, intanto dal tenere la moto ha bisogno di una preparazione particolare che differisce da quella della pista, per cui cambia tutto, per fare un esempio le sospensioni hanno bisogno di una preparazione che deve essere rigida ma non troppo, devono copiare l'asfalto perché le irregolarità ci sono e per cui poi c'è un qualcosa di, c'è un'alchimia perché la stessa moto che andava bene l'anno scorso, quest'anno cos'ha? Che ha bisogno di migliorie e poi c'è il discorso gomme, le mescole, per cui sì, c'è tutto un lavoro tecnico da questo punto di vista, non facilissimo perché poi quando si fanno gli allenamenti in pista, su strada tante volte i setting vengono completamente ridimensionati, ecco, e poi, ok, come team, come team volendoci si potrebbe sbizzarire, noi cerchiamo di promuovere il più possibile questa disciplina spettacolare e in Italia adesso sta cambiando qualcosa, lo vediamo, lo vediamo, insomma a livello di presenze, quest'anno ci sono stati, ci sono state presenze di piloti forti a livello nazionale in circuito che sono stati attratti da questo tipo di competizioni, vediamo Luca Salvadori e Pedersoli che hanno partecipato, per cui vediamo un crescente interesse, ecco. Beh, questo è importante, no, pensavamo anche, la domanda che volevamo rivolgerti è proprio questa, i giovani, cioè che attrattività ha questo tipo di disciplina e di attività per i giovani e per giovani intendiamo, insomma, anche persone, adesso tu sei una persona, un pilota di esperienza e anche un manager di esperienza, pensiamo sempre a quella fascia compresa tra i 20 e i 30 anni. Sì. È giusto più o meno come range. Esatto, allora questa fascia, diciamo, adesso con YouTube, secondo me il motore principale per questo tipo di competizioni restano le gare europee, l'isola di Mann che possiamo considerarla per tipologia una sorta degli 8 mila metri di Everest del motociclismo per difficoltà, velocità, però si propone sui canali multimediali, sui social con delle riprese spettacolari, per cui la fascia giovane viene attratta perché il primo passo per poter essere protagonisti di quel tipo di gare è proprio il campionato italiano di velocità in salita, che comunque c'è uno sforzo da parte dell'organizzazione per tenere delle velocità medie più basse, cioè sì, si possono arrivare alle punte di 200 all'ora, però le nostre gare rispetto a quelle europee sono più tecniche, cioè le colline nostre offrono non il curvone da 280 all'ora e se c'è viene smussato con le chicane, però a livello tecnico secondo me possono dire la loro perché sono tortuose e hanno delle caratteristiche tecniche importanti per il giovane, però è un approccio fattibile. Poi all'interno del CIV c'è un'altra competizione che è la crono climber, che non è una gara cronometrica nel senso proprio stretto dal termine, ma mette in fila i tempi e una persona deve essere più regolare possibile, anche se non velocissimo, consente a chi vuole approcciarci in maniera più facile e rilassata, avendo l'emozione di correre tuttavia in un tracciato dove corriamo noi, ed è una cosa che per l'approccio dei ragazzi più giovani consente anche con un budget non stratosferico di approcciarsi in maniera facile. No, guarda, una considerazione se vuoi banale di carattere estremamente generale, fortunatamente lo spazio che finalmente sta trovando il motociclismo anche a livello di diffusione televisiva, insomma quante persone che ho sentito dire, adesso ci perdonino gli amati della Formula 1, l'automobilismo è un po' una palla, mentre il motociclismo è divertente, perché è vero c'è sempre la mano dell'uomo, però nel motociclismo la mano è anche la gamba, il piede dell'uomo, cioè c'è una partecipazione anche a livello proprio di coscienza collettiva, insomma di chi guarda, del pubblico, c'è una percezione forse diversa, per quanto siano tutte e due attività estremamente stressanti, perché ovviamente anche chi è nell'abitacolo di un'auto, però insomma la moto anche proprio... Ha il suo perché dal punto di vista dello spettacolo, le pieghe, le scodate, i sorpassi, anche se vogliamo avere un lato tecnico sullo stesso circuito, due macchine prendono tot spazio, i motociclista possono essere tenuti un sorpasso a quattro, per cui sì sì, confermo che c'è questa impressione, un insieme di cose, da quando guardavamo noi le gare, mi ricordo con Svanz, eravamo una nicchia, adesso il motociclismo è diventato uno sport di massa, che piace a un pubblico molto molto ampio. Lucio una considerazione conclusiva, qua il tempo vola anche perché la tua presenza è molto piacevole in studio. Grazie. Per avere informazioni, noi avevamo indicato un sito, ma non sappiamo se sia un sito giusto, www.autocadoneghe.it. Sì, confermo. Ok, lì noi aggiorniamo con le gare, con idee nuove, anche con setting, consigli su come regolare le sospensioni, cioè una cosa, cerchiamo di fare il più possibile a 360 gradi, che può prendere appunto sia le nostre, dal calendario, i risultati, ma anche altro. Ma senti, adesso un ragazzo di 23, 24 anni che ci sta ascoltando, mi piacerebbe andare a conoscere Lucio Cazzini perché vorrei provare. Certo. Anche però con una guida, perché tu ovviamente puoi anche essere una guida nel senso più, 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 diciamo, didattico, ecco, didattico del termine. Per chi, togliamo l'occasione a tutti gli amici che sono interessati o potrebbero essere interessati o semplicemente curiosi, contattateci pure perché possiamo darvi tutte le indicazioni per chi volesse approcciarsi, come pensare a partecipare e poi, insomma, fare anche il passo, insomma, ecco. Allora, Lucio, prima di salutarci, ci possiamo chiedere una cosa un po' più di spettacolo. Ci puoi far vedere questa meravigliosa felpa che poi è la felpa di Francesco Piva, se la puoi semplicemente rivolgere, ecco, diciamo, in direzione di telecamera per dire... Questo è il nostro logo. È la vostra divisa ufficiale, molto carina. È il nostro logo, era nata dall'idea che le gare in salita assomigliano un po' alla carica di un toro relativamente brevi, furiose e quello è stato lo spunto per cui abbiamo inserito il toro nel nostro logo della squadra corse. Grazie davvero a Lucio Cazzin, team manager e pilota autocadong squadra corse divisione moto. Grazie Lucio e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie al nostro primo ospite. Attenzione, non è ancora finita perché tra poco ci sarà Francesco Piva che è un pilota trentino di cui parlava poco fa Lucio Cazzin. così andremo anche a conoscere da vicino che cosa provo o perché si diventa pilota. E rimanete con noi, appuntamento fra pochissimo. Grazie.